Nel corso della giornata del 30 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Nicosia e Centuripe, unitamente al personale dello squadrone eliportato cacciatore di Sicilia di Catania, hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione su tutto il territorio del comune di Centuripe, con attività di rastrellamento nelle aree rurali e nei casolari abbandonati. L'attività svolta ha consentito a seguito di un'accurata battuta nelle contrade di pezza grande del comune di Centuripe e di rinvenire occultati sotto il pavimento di un casolare abbandonato un vero e proprio arsenale con armi e munizionamento, composto da tre fucili primi di matricola con ottica di precisione e oltre 1300 cartucci di vario calibro per pistola e fucile. L'arsenale, custodito dentro dai sacchi in perfetto stato di conservazione funzionante, è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti di natura tecnica.